Per vedere come mangio vasco, e adesso te lo faccio vedere, dunque, mi sono affittato la mela, che è qua, la mela non è abbastanza dolce perché per me mi sono messo dello sciroppo d'asilo, straordinario, tutti i giorni prima di cominciare il ritiro spirituale, la preghiera alla ramadà, per fare questi concerti al massimo della forma fisica, psichica, intellettuale, e che più le mette, permettetemi di fumare le ultime sigarette e di mangiare anche della Nutella, perché a un certo punto, signori miei, la verità è questa, io sono dipendente dalla Nutella. Mi hanno messo in cantina, mi hanno messo in una cantina dove c'è un freddo, diciamo così naturale, così mi tengo al fresco come il vino, il solito camerino, molto, molto, tranquillo diciamo, anzi decisamente vuoto, perché il vero VIP, para VIP alla fine è sempre solo. la pista, devo fare un applauso. attendo in un minuto di domani, non la spugniamo sul mese, ma è una stessa, io sono le ricette, le cortecite, una spazio, ma il problema di dove ci sono, non lo faccio, 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 non lo faccio. La roccia, se che vedo l'oro, sono... Eh, non c'è... Non c'è l'oro... 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 Bene, questa sera riporto con me direttamente fino all'inizio del... del raduno... del raduno ufficiale... prima del concerto... Ecco qua! Yeah! Siamo! Meglio! Ahhhh! Grazie! Troppo! Vieno! 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 Avante... Vieno! Arrival! Vieno! Vieno! Eeeh! Eeeh! Eeee! Eeeeeh! Thank you! Sei pronto alla palpata? Andiamo la palpata! Sei pronto alla palpata? Hey, eh, hey! Allora cominciamo con Cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è Cosa c'è, cosa c'è La copricola del Blasco Voglio tornare Voglio andare al mare Se state guardando per la compagnia La compagnia Ma concentrati Dopo la compagnia Voglio diventare Non sopporto Dopo lo sopporto un po' di pausa Pausa messa Anima Aiuto Non l'avete dato da bere 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 Siamo soli, un senso, interludio, interludio, no, sbagliato, sbagliato, pulizioni, il medley, la favola, la tua canzone preferita, vivere sulla tavola, vivere sulla tavola, stupendo, stupendo, come stai? Selle, prendi un stato. Il secondo nonettativismo prendi un, Selle, dice cui? Selle dice, no, o-FORE! Le spari sopra. Siamo soli, siamo soli! Siamo, noi, Rewind! Llylaly 59 fammi godere fammi godere e poi ciao daba daba sai cosa ti dico ciao e dopo per i bis vediamo quanto non so neanche cosa dire ma quanto che situazione che sono diciamo che ecco 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 questo succede oggi per questo giusto diciamo che la quantità è aumentata salutate che siete siete sempre su facebook ecco io mi sono praticamente ogni giorno faccio due apparizioni come diciamo come allora ragazzi la situazione la situazione è sempre uguale non c'è nessuna novità la costola è sempre rotta fa male bravo 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 un ragazzo sincero finalmente un ragazzo allora la costola è sempre rotta non c'è niente di grave ve l'ho detto già no? e c'è nessuna 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 macchia nera non posso venire giù perché sono convalescente e devo dire venite su tutti voi dai certo 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 però adesso ciao ciao però adesso smettetene di urlare e di chiamare ciao 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 Grazie, 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 grazie di tutto, avete visto come sono matti? No, poi dicono che sono matto io. State bene, state bene, andate a divertirvi. Ciao, 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 ecco dopo la seconda uscita perché le faccio due o tre giorni adesso, vedo anche la benedizione, sai? Dove sei? Eh? Di mezzo alla natura! Ciao! Avanti tutto, forza, e qui tutto, forza, ciao! Ciao, ciao! Everybody, watch me. This is the way. This is the right way. Allora, questo è in modo giusto. Poi, down. Adesso ho capito. Adesso ho capito. Ok, come va il passaggio? 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 Il passaggio di...